Bentornato io sono Pasquale. Lo strumento ETF e il suo seguire un paniere ben definito di indici o azioni ha dato la possibilità a moltissime persone come me che sono ignoranti in materia di investimenti di poter accedere al mercato delle azioni in maniera molto semplice ed ottimizzata. Io personalmente sono riuscito a capire da ignorante in materia moltissime cose studiando proprio gli ETF soprattutto riguardo a cosa fosse un indice, cosa significasse SMB SP500 oppure Nasdaq e cosa effettivamente fosse questo favoloso mondo che fino a poco tempo fa pensavo solo essere un mondo fittizio dell'economia finta e che si discostasse molto da quella reale dei negozi che trovi per strada per esempio. Tuttavia come ho potuto realizzare di finto non c'è molto ma anzi è tutto molto tangibile si può toccare con mano. Tutto questo ha creato però una specie di euforia nell'acquisto del prodotto ETF, dei prodotti ETF che secondo moltissimi esperti del settore e in particolare di Michael Burry, la persona famosa per aver previsto la crisi del 2008 sui mutui subprime. Secondo lui siamo appunto al limite e a breve termine vedremo questo mondo dell'economia e soprattutto degli ETF esplodere come una bolla, come la bolla del dot com che avvenne nei primi anni del 2000. Cosa ne penso io? Beh prima di tutto io sono un novellino e per cui quello che ti dico ora sono solo delle mie piccole e molto probabilmente poco influenti opinioni ma che comunque vorrei che seguissi e che seguissi il mio ragionamento fino alla fine di questo video e magari ne potessimo discutere assieme nei commenti qui sotto se ti fa piacere. Prima di continuare con questo video però ti volevo ricordare che io non sono assolutamente un trader professionista, neanche un consulente finanziario o una qualsiasi cosa di esperta e qualunque cosa io dica in questo video o in altri argomenti sono solo frutto di opinioni personali e non sono assolutamente un invito ad investire e neanche una consulenza finanziaria. Sono qui per imparare e condividere la mia esperienza insieme a te. L'idea su una bolla sugli etf e su tutti i fondi che seguono gli undici soprattutto quelli a copia fisica viene dal fatto che secondo alcuni esperti del settore si sta creando una specie di sovrarichiesta di azioni di determinate aziende che tendono in questo modo ad essere sopravvalutate, a sopravvalutarsi rispetto al vero e al loro valore reale di mercato. Quindi si causa uno sbilanciamento fra il valore reale che l'azienda ha in quel momento e quello che il mercato è disposto a pagare pur di avere queste azioni presenti nel paniere del proprio etf. Un altro aspetto che Michael Burry mette in evidenza è che negli indici molto affollati come ad esempio quello più famoso l'S&P 500 dove le prime 10 aziende fanno quasi il 22% della capitalizzazione totale e il restante, la restante percentuale è capitalizzata dalle altre 490 aziende e il 78% rimanente, bene quelle ricevono una sovvalutazione eccessiva che appunto le può portare ad essere troppo gonfiate rispetto alle loro leale potenzialità di mercato. Ma è veramente così? Beh, come ti dicevo io, mia esperienza, mia opinione personale, credo di no e ti dico anche perché. Prima però ti invito a iscriverti al canale, cliccare la campanella delle notifiche così da non perderti nessun video successivo nel caso in cui questi contenuti fossero di tuo interesse e gradimento e ovviamente a lasciare un pollice in su se questo video ti è piaciuto. Perché non credo che tutto questo sia possibile e per cui che non ci sia questo rischio imponente? Prima di tutto l'indice è un elenco di aziende che per essere ammesse a quel determinato contesto devono essere già comunque stabili e di un certo valore commerciale e questo è qualcosa che accade molto prima di quando esse vengano, vengono l'italiano, vengono aggiunte all'indice di riferimento. Per cui comprando azioni di una particolare azienda via un etf o singolarmente non si fa altro che comprare parte di un'azienda che ha già una certa stabilità economica. Il suo valore è già intrinsecamente alto rispetto alle altre aziende che possono comunque essere state già quotate sul mercato. In realtà chi tende a replicare un indice via un etf particolare in linea di massimo ottimizza anche la copia fisica cioè non copia per forza tutto ma appunto va ad ottimizzare e non necessariamente acquistando tutto quanto quello che è il sottostante dell'indice. E anche se lo facesse le aziende sarebbero impattate dagli investimenti in maniera percentuale rispetto alla loro potenza sull'indice per cui in maniera così marginale da non causarne sicuramente nessun picco di valore che non possa essere in realtà giustificato. Un altro aspetto da tenere in considerazione secondo me è il fatto che volente o non volente un'azienda cambia sì il prezzo in base al numero di transazioni di acquisto o di vendita delle proprie azioni ma questo e viene impattato anche da altri fattori secondo me molto ma molto più determinanti rispetto al fatto di essere presente in un etf per esempio i report trimestrali o il bilancio annuale l'indice di indebitamento il fatto di avere dividendi per cui semplicemente perché ci siano molti fondi a gestione passiva come i tf ma anche se fossero a gestione attiva quello non cambia che comunque comprano il più delle volte i sottostanti di questi indici in maniera fisica non significa che solo per questo motivo una azienda venga per questo fatto sopravvalutata rispetto al suo valore reale di mercato. Ti faccio un esempio se domani l'amministratore delegato di un'azienda a caso mcdonald ha una relazione con la sua dipendente a caso e viene licenziato le azioni andranno a perdere valore non influirà per nessun motivo il fatto che quel giorno dello stesso sp500 siano state tantissime transazioni di acquisto o di vendita aspetta un po ma questa storia del mcdonald è successa davvero no? eh? ti ho fregato? comunque le azioni presero una bella botta quel giorno e comunque c'era un sacco di gente che continuava a comprare quote di etf sull'sp500 e su quel mercato soprattutto in quello americano per cui il mercato secondo me è ciclico e comunque vada ci saranno alti e bassi indipendentemente che ci siano nuovi strumenti finanziari che servano gli investitori ad investire proprio come appunto sono gli etf soprattutto se la tua strategia di investimento come la mia per cui a lunghissimo termine a terminissimo penso che nel mercato delle azioni se ci sono delle attenti analisi di cosa si compra non si debba correre il rischio non si corre il rischio di vedersi tutto prosciugato dall'oggi a domani ma ripeto sono mie pure le azioni da un investitore novello diversificare i propri etf in diverse tipologie di settori e diversi mercati mondiali sicuramente potrebbe compensare eventuali problematiche che possono venire a crearsi nel tempo nel lungo termine ma sinceramente io non mi aspetterei una bolla come il dot com o come la crisi dei muti subprime ci sono molte più possibilità che ci siano crisi o persino una forte recessione che non una bolla su etf secondo me bene questa è la mia opinione in merito fammi sapere cosa ne pensi tu di questo argomento ti lascio in descrizione alcuni link per approfondire il discorso dello studio della questione etf bolla oppure no ma ovviamente come in tutte le cose anche se si tratta di consigli opinioni di esperti si tratta di opinioni personali che sono basate su letture personali visioni di alcuni pareri di alcuni youtuber per cui le mie parole qui potrebbero essere semplicemente una valanga di cavolate sparse al vento ma al momento questa è la mia singola opinione sull'argomento e spero che queste mie informazioni sulla bolla etf siano state di tuo interesse e il tuo gradimento se tu hai altre opinioni o informazioni in merito a questo argomento mi farebbe molto piacere che tu lasciassi un commento qui sotto che condividessi questo video questo video no questo video così che possiamo aiutare altre persone alle prime armi come me a conoscere questo mondo ti ribadisco che se il video ti è piaciuto devi distruggere quel pollice in su iscriviti al canale e cliccare la campanella delle notifiche per oggi è tutto ti ho rotto abbastanza le bbb a a l le e ci vediamo al prossimo video a proposito i link per consultare approfondire sono qua sotto ciao